Assessore, oggi a Villa Ormond si parla di servizio igiene, un servizio importantissimo per tanti comuni grandi e piccoli della nostra provincia e del nascente neonato bacino. Sì, oggi è una giornata importante perché si parlerà dell'importanza della Costituzione e dell'ambito unico dei rifiuti. È importantissima questa pratica, la stiamo seguendo da tantissimo tempo, è molto complessa, ci sono 18 comuni che partecipano alla Costituzione di questo ambito, l'ambito sanremese che vi vede il Comune di Sanremo come comune capofila è stato ampliato per volontà dei sindaci appunto a 18 comuni. Ci auspichiamo che il servizio potrà essere affidato in house alla nostra partecipata che è la più importante della provincia, la prima azienda pubblica in house nella provincia di Imperia per l'igiene urbana. L'importanza dell'ambito sta nel fatto che ci potrà garantire di avere un controllo sull'intero territorio del bacino sanremese, quindi un controllo dei flussi, un controllo dei dati e ciò ci permetterà di andare a sviluppare in maniera sostenibile un sistema con anche delle innovazioni tecnologiche mirate esclusivamente alla sostenibilità ambientale. Si potrà ragionare sulla diminuzione delle emissioni, si potrà ragionare sulla possibilità di cambiare il parco mezzi con l'elettrico in modo da diminuire ulteriormente le emissioni. Si potrà ragionare su un ampio raggio, una campagna a specchio che prenderà ben appunto il territorio di ben 18 comuni in modo tale da poter fare un progetto finalizzato esclusivamente al miglioramento dell'ambiente e alla sostenibilità ambientale. Presidente, con l'inizio dell'avventura del bacino AmaEnergia sarà sempre più centrale, un'espasione costante per un'azienda che si sta ampliando sempre più? Ma questo è un auspicio nel senso che dai giorni scorsi si è finalmente costituito sia la consulta dei sindaci che l'assemblea dei sindaci che dovrebbe portare alla fine all'affidamento da parte dell'ente di governo, noi auspichiamo alla nostra società la gestione del bacino. Non è un dato scontato, nei giorni scorsi le linee guida dell'ANAC hanno ben chiarito che il rapporto di servizio che dovrà legare il futuro gestore per i prossimi 15 anni al bacino dovrà essere un contratto di servizio che garantisca economicità, efficienza ed efficacia. Noi abbiamo la presunzione, in corso di questi anni, di aver cercato di garantire questi principi nei confronti dell'opinione pubblica, nei confronti degli utenti, nei confronti dei comuni. Speriamo di esserci riusciti, speriamo a questo punto che il risultato finale sia quello che noi auspichiamo. Il convegno di questa mattina, per il quale ringraziamo l'iniziativa del Comune di Sanremo che ha voluto appunto crearlo e rispetto al quale noi ci siamo posti come braccio operativo per dare un minimo di supporto logistico, va proprio in questo senso. È un approfondimento, si vuole chiarire con assoluta trasparenza e con assoluta chiarezza quali sono i presupposti per poter giungere a un eventuale affidamento in house. Sanremo ha fatto questa scelta, si è dotato di una propria società, questa società nel frattempo ha svolto tutta una serie di ulteriori servizi dal mercato dei fiori alla pista ciclabile, alla produzione di energia idroelettrica. Qualcuno dice che stiamo facendo troppo, io credo che tutto sommato la realizzazione di una sinergia tra attività e una multiservizi che garantisce un fatturato adeguato, credo che tutto sommato sia il minimo. A Villa Ormando oggi si parla di affidamento in house dei servizi di igiene urbana, lei è presidente del neonato, neonascente, Bacino, innanzitutto quali sono i primi punti che affronterete, i primi progetti? In realtà neonato Bacino perché è già stato costituito, stiamo lavorando, anzi inizieremo a lavorare anche con questo convegno per capire, far capire l'importanza di costruire da subito bene un progetto che darà la possibilità ai piccoli comuni e anche non solo ai piccoli ma a Sanremo ha già la sua gestione dei rifiuti, di avere un impianto e un'azienda importante alle spalle per poter rendere più efficace, più efficiente e più economico un servizio che è tutto a carico dei cittadini per cui dobbiamo anche tenere conto di questa situazione qua, ma che oggi ahimè più che altro nell'entroterra è un servizio che non è fatto secondo le minime norme di buon esercizio, quindi a noi quello che interessa è riuscire a costruire questo progetto per poi presentarlo all'Assemblea dei Sindaci che è il soggetto che deve poi decidere sull'affidamento, ma ci interessa lavorare per creare proprio un prodotto confezionato che abbia nella economicità e nell'efficacia e nell'efficienza il suo centro. Invece in qualità di sindaco di un piccolo comune dell'entroterra quanto è importante avere al proprio fianco un'azienda in costante espansione come Amenergia in questo momento? È fondamentale e siamo tra i primi a aver scelto come sindaci, come anche consigli comunali perché è passato in consiglio comunale, la volontà di affidare il servizio in house, cioè di affidarlo ad un'azienda partecipata dai comuni. È un primo step perché alcuni di noi non hanno ancora una partecipazione perché naturalmente c'è stata un'accelerata fondamentale perché è il caso di dire che oggi finalmente iniziamo a parlarne in maniera concreta perché è tanto tempo che si parla di atto, di costituzione, di bacini eccetera eccetera, ma solo negli ultimi sei mesi c'è stata un'accelerazione decisiva che ci permetterà appunto di andare a individuare un partner, a Amenergia probabilmente, con il quale iniziare un cammino che credo sarà un cammino pieno di soddisfazione.